se esce questi cinque numeri che ho giocato a tutte vinco 500 mila euro con un euro quanto ti ha detto 500 mila euro sono un signore vado in pensione con 500 mila euro se vinco però con questi numeri ricordatevi tutti questi numeri se le giochete può darsi che vincete ciao ciao 5 milioni di euro quindi vai adesso a controllare vado adesso a controllare vabbè a dopo facci sapere ho perso devo andare a lavorare domattina ciao